Amici di Youtube, bentrova Dinamarco Liguori, doloroso lutto per il cinema e per le serie tv a soli 49 anni, ci lascia la bella attrice, le cause della scomparsa sono davvero drammatiche, prima di saperne di più vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 200 mi piace, e pubblicherò immediatamente uno nuovo, questa in foto era la modella e attrice americana, Leanza Cornette, dapprima una folgorante carriera nel mondo della moda, Leanza è stata Miss Florida nel 1992, Miss America nel 1993, successivamente ha preso parte a telefilm come Melrose Place, CSI e Bayside School, come accennavamo poc'anzi, le cause della sua scomparsa sono alquanto drammatiche, Leanza ha subito una tremenda caduta all'interno della sua abitazione, sebbene sia stata portata tempestivamente all'ospedale di Jacksonville in Florida, la donna non si è più ripresa, ci lascia a 49 anni, Leanza Cornette era una bellissima donna, adesso è un bellissimo angelo in paradiso, amici di Youtube io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale e condividete questo video.